Ciao a tutti, eccoci di nuovo qua, facciamo un video di gag, quindi gambe, addominali e state, iniziamo a marciare, teniamo bene il tempo, dai, ora marcio, ci sbagliamo un po', iniziamo, diamo l'estra, un start touch, possiamo scendere un po' di più, tenete gli addominali, gli stiamo piegando un po' le gambe, l'abbraccio, semplicemente riteniamo a parte, il tema, a parte, costruiamo su, ok, diamo in apertura con la gamba sinistra, e in chiuso e ne facciamo altri ok, rimaniamo qua con la gaffa sale facciamoli ancora, su bene e in arcio, qua con la sinistra pronta a ripartire aspettaccia e teniamo un po' gli alluminari piego le gambe, un belico per indetto piego le gambe piego le gambe pronta e andiamo l'apertura sulla gatta e chiudo e facciamo ancora rinforzatevi, su bene la gatta pronta e rimaniamo piego le gambe piego le gambe piego le gambe e quindi facciamo ancora otto uno due tre quattro cinque sei sette otto rimando qua, dobbiamo le spalle una ritenuta non legge ancora piccoli uno due tre quattro cinque sei sette due e marcio attenzione questa arnaccia fondale andiamo sempre di destra andiamo andiamo avanti abbraccia queste arnone che stanno proprio ferme un'altra stessa attiviamo sollevare come la ganta con il spettone bella pesa attiviamo sempre i nostri addominati da cui può incendere la puntazione del bambino le braccia da sinistra a passare la gana attimo, metri cibi dai, ancora 8 ok rimaniamo sulla gana su rinancio in un top 8 7 6 5 4 3 2 piatti della sole vada valore al lungo su 8 7 6 5 4 3 2 si arcia a sinistra pronta a ripetere 5 6 7 7 arcia frontale 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 inizio a spingermi le rovini qui dentro e tenendo bene la posizione vai ancora dobbiamo andare in maniera e cambiamo e su la gamba 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e andiamo su tassone e all'interno e andiamo su 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 marci bene quella destra prepariamo un bisetto destra 5, 6, 7 e andiamo ora delve poi isticamente attualmente questo che recyclato vindo Buon appetito. In questo minimo il piede è pronto, vediamo il piede, estendo fuori l'aria e la riprendo. Ancora la parte, scelta il corpo. E andiamo al basso. Vediamoci sempre la piattaforma della pomme. Bene, bene, scelto, sulta come l'estero, salto. Ma in sinistro. Appeniamo i palloni, destra, sinistra. Una volta, dopo un uomo, solo a destra, rispabilizzo. Un uomo e cento, solo a destra. Due. E a chi non lo viva più in questo caso, due. Quattro, se riesco, non mi stendo male, eh? Cinque. Sette. Sette. Otto. Dieccio. Ancora otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Uno. Vincito. Altro. Vecito a sinistra. Pronto. Vecito a sinistra. Vecito a sinistra. Arci, arci o scioglio. Siamo. Cinque. Sei. Sette. E abbiamo un rispetto. Lato bene le gambe. Vecito a sinistra. Oh. Chiıla. Chiもし. Chi avec. Chi. Chiux. Chi. 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 Spoti in piedi, pronte, andiamo, scendiamo il cuore in aria, lente, bello respiro in pesado. E' pronto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, schifo, calore sinistro. 4, 3, 2, 1, schifo, calore sinistro, 4, 3, 2, 1, schifo, calore sinistro. 5, 6, 7, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, ancora 1, schifo, calore sinistro. 6, 7, ancora 1, schifo, calore sinistro. 7, ancora 1, schifo, calore sinistro. 8, ancora 1, schifo, calore sinistro. 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, schifo, calore sinistro. Allora, appoggiamo i piedi, andiamo a guardare il bacino, adoro già qui c'è la tenuta, andiamo a guardare il bacino. Perfetto, prepariamo la camera di strada, facciamo il bacino, facciamo la parte bassa, andiamo a guardare il bacino, adesso andiamo a guardare il bacino. Andiamo a guardare il bacino, adoro già, andiamo a guardare il bacino, andiamo a guardare il bacino, andiamo a guardare il bacino. Allora, guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guard andiamo a dipendere di nuovo a lasciare il bacino la spaventura si apre non si è carriera nella posizione bene, appoggio rilasco un attimo la schiena poi torniamo bene in appoggio con la schiena la schiena la schiena attacchiamo passiamo bene la schiena sempre prendere le spaventura lusica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.